Elie Schlein è quella che esce più rafforzata, decisamente esce rafforzata nel consenso popolare, ha avuto un voto nazionale che non si aspettava sulle europee che coincidevano col primo turno delle amministrative, ha avuto la conferma dai ballottaggi, come abbiamo sentito negli articoli che ci hai letto, che il centrosinistra ha guadagnato capoluoghi. Quindi, diciamo, dentro il Partito Democratico si rafforza la leadership di Elie Schlein e non era scontato. Lei è più forte, è più forte dentro il partito, è più forte nel Paese, si rafforza il bipolarismo con Giorgia Meloni, si rafforza un altro dato che secondo me è molto interessante e che le prime pagine che ci hai letto ci confermano, e cioè che l'Italia è molto europea. Perché è molto europea? È molto europea a perché è contendibile e non lo davamo per scontato, perché dopo le elezioni politiche del 22 sembrava che c'era un grosso blocco di destra con un partito molto più forte degli altri e un'opposizione molto frammentata, anzi c'erano le opposizioni, tutti quanti noi scrivevamo e parlavamo delle opposizioni. Al plurale. Al plurale. Adesso tu hai un Paese che è contendibile. Secondo dato per cui secondo me queste elezioni amministrative che sono avvenute per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana con un election day complessivo con le europee, sono molto europee. Perché sono donne, sono femminili e l'Europa è femminile. L'America sta per scegliere tra Trump e Biden, due signori maschi di una certa età, dove l'Europa è condizionata dal comportamento di un signore che si chiama Vladimir Putin, che è un altro signore maschio di una certa età, l'Europa è sicuramente donna. L'Italia è donna con due leader politiche donne, l'Italia è donna con tante sindache donne.